Asso Bioplastiche Asso Bioplastiche è un'organizzazione che raccoglie tutti i produttori e trasformatori della filiera delle bioplastiche. La caratteristica che ci distingue è l'utilizzo di materie prime da fonte rinnovabile e destinate poi a fine vita al compostaggio, secondo la norma 13.432. A fare la cosa giusta siamo presenti con le stoviglie biodegradabili e compostabili, prodotti che dopo il loro utilizzo saranno smaltiti con il rifiuto umido per essere avviati presso gli impianti di compostaggio.